E' una tendenza acida dovuta alla marinatura, puntarella e acciuglia, sì, tantissima sapidità, che noi andremo ad accompagnare a un vino metodo classico, tenuta felsina, spumante rosè di tenuta felsina, tortelli e broccoli, calamari e pomodori confitte, tortelli e broccoli, tendenza dolce, calamari, sapidità, aromaticità, e pomodori confitte, aromaticità, tendenza acida, perfetto. Allora, tortelli e broccoli, sì, antica marineria, San Giovese, significato in bianco, delle rocche maestiane, coppa di maialino, pure di patate, cardigobi, ok, tendenza, tanta tendenza dolce, una leggera aromaticità, poca succulenza, perfetto. Sì, l'ombroso di Giovanna Madonia, è un superiore riserva che fa un affinamento in tonno e ha una bellissima volgenza, una bellissima ventaglia di sfumature dolose che poi andiamo anche a riscontrare nella sua persistenza. erbo in alto di cappra con mostarda e frutti rossi, antaromaticità, sapidità, mostarda e frutti rossi, abbiamo anche una leggera tendenza acida, una leggera tendenza acida, perfetto. uno stramat, che è un pastito rosso, non mi ricordo più l'azienda, quindi ho finito. Se invece volessimo un solo vino da accompagnare a questi menù, cosa ci consiglierebbe? Un solo vino? Tranquillamente lo stramante rosè di Fersino. Grazie.